Bella a tutti mi slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di young boy never broke again uno dei nomi più richiesti finalmente riesco a portarvelo parleremo di tutta la sua vita partendo dall'infanzia fino alla sua situazione attuale che come ben sapete è in prigione chiaramente prima di cominciare mi piace e commento dove mi dite magari anche un altro rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare e detto questo possiamo anche iniziare Cantrell DeSean Golden è nato il 20 ottobre 1999 a Baton Rouge in Louisiana sfatiamo subito uno dei più grandi miti su di lui i segni sulla fronte essenzialmente mentre lottava da piccolo si è rotto l'osso del collo e per guarire da questo infortunio si è dovuto mettere un'apparecchiatura no tipo quei tutori che appunto gli ha lasciato questi segni sul volto e dire che comunque le è andata benissimo al di là di questo piccolo inconveniente anche il resto dell'infanzia non è proprio tranquilla viene cresciuto principalmente dalla nonna e cioè dovuto anche al fatto che il padre deve scontare una pena di 55 anni di carcere arrivato sui 14 15 anni dice alla madre ma io a scuola non ci voglio andare più voglio fare il rapper da quando abbandona l'ambiente scolastico cominciano anche ad esserci i primi problemi legali per esempio viene arrestato per rapine viene mandato al centro di detenzione a tallulla sempre in luisiana ed è qui che comincia a scrivere i primi testi una volta uscito scopre che la nonna è morta di infarto e con il suo amico e socio mba3 un altro rap locale di quella zona vanno a vivere insieme solo che iniziano anche esserci le prime tarantelle con cui cercano di pagarsi lo studio in generale il lifestyle inizia a fare musica più o meno sui 14 anni dopo aver comprato il suo primo microfono da walmart questo perché siamo tutti partiti da zero e nel 2015 esce il suo primo tape life before fame la sua carriera è mensa e dopo questo album escono altri due tre ma cercherò di parlarvi solo dei progetti più interessanti perché altrimenti non la finiamo più fatto sta che dopo questi due tre tape nel 2016 esce 38 baby il suo primo progetto di una certa rilevanza merito di questo è anche il beef con scottie kane un altro rapper di baton rouge con cui si scambiano diverse diss track frecciatine anche minacce di morte ma poi per fortuna in real life non succederà mai nulla tra questi due artisti almeno fino ad oggi nel 2016 a dicembre cominciano i primi seri problemi legali per young boy viene arrestato in quanto accusato di omicidio di primo grado durante un drive by durante questo periodo di detenzione escono due mixtape before i go reloaded e mind of man's tree reloaded viene poi rilasciato su cauzione a maggio 2017 dopo un patteggiamento e una settimana dopo viene rilasciato il singolo untouchable che poi farà parte di all young boy questo mixtape poi esce il 3 agosto e può definirsi il primo progetto che rende young boy in un certo senso viral si posiziona al posto numero 24 nella classifica billboard 200 e alcuni suoi singoli proprio come untouchable e no smoke entrano addirittura nella hot 100 posizionandosi rispettivamente al 95esimo e 61esimo posto quello che subito caratterizza il rapper sono le sue melodie molto orecchiabili alternate anche a barre davvero hard e altre un po più introspettive in generale racconta tutto lo strago del dolore chi ha passato per arrivare dove adesso a gennaio del 2018 dopo aver firmato un contratto con atlantic records annuncia il titolo del suo primo album studio until that call my name il 6 dello stesso mese viene estratto il primo singolo outside today che riesce a conquistare la posizione numero 31 nella hot 100 un record per young boy poco prima di esibirsi in concerto a febbraio viene arrestato questa volta i poliziotti avevano un mandato di cattura per presunto assalto e sequestro di persona e infatti poco dopo il suo arresto sono uscite delle registrazioni di un hotel dove immortalano young boy aggredire la sua ragazza dell'epoca giania alla fine esce il 15 marzo dopo aver pagato una cauzione di 75 mila dollari e il giorno dopo droppa un suo mixtape master the day of judgment finalmente il 27 aprile esce until that call my name quello che tuttora a mio avviso è il suo progetto migliore debutta al posto numero 7 nella classifica billboard vendendo 43 mila copie ad oggi è certificato disco di platino compresa la deluxe edition abbiamo un totale di 20 tracce con pochi feat ma veramente importanti future, l'illusivert, offset e birdman perché lo ritengo il migliore? essenzialmente perché in questo album lui associa qualità a quantità una cosa che poi vedremo anche più avanti nella carriera di young boy non è affatto scontata il 24 agosto esce for respect un piccolo ep di quattro tracce che darà inizio ad una saga seguono infatti for freedom for loyalty for what important e con l'uscita dell'ultimo raggruppa tutti questi ep sempre di quattro tracce in un'unica compilation o playlist di 16 canzoni intitolata proprio for respect for freedom for loyalty for what important non finisce qui perché durante quest'anno escono altri due mixtape decided uscito a settembre unico feat trippy red e realer uscito a dicembre come feat lil baby applies l'11 febbraio 2019 si trovava con star tick pen quella che ai tempi era la sua baby mama ed erano in un albergo ad atlanta ad una certa entra nella loro stanza la signora delle pulizie pensando che non ci fosse nessuno al che young boy ordinò alla sua ragazza di cacciarla subito non chiedetemi per quale motivo ma quest'ultima si scagliò contro la governante picchiandola nonostante questo riuscì a scappare chiamò la polizia che arrestò entrambi trovando anche young boy con della marijuana il 13 già entrambi vengono rilasciati su cauzione ma questo è solo uno dei piccoli problemi chiamali piccoli che poi caratterizzeranno tutto l'anno del rapper impedendogli di lavorare alla propria musica il 4 ottobre esce bandit un singolo che vede anche la partecipazione di juice world i due droppano un video girato da col bandnet ed entra al decimo posto nella classifica hot 100 costituendo un altro record per young boy sei giorni più tardi esce haul young boy 2 il segue del primo mixtape uscito nel 2017 e personalmente questo lo metto un gradino sotto until that call my name però in realtà è stato il primo progetto che mi ha fatto completente rivalutare young boy perché prima di questo non mi faceva tanto impazzire finalmente debutta la posizione numero 1 in classifica billboard vendendo 110.000 copie tutti nuovi record per il rapper di baton rouge e proprio lo scorso anno è stato certificato disco di platino quale modo poi di cominciare il 2020 meglio se non droppando un bel mixtape ed è così che a febbraio esce anche still flexing still stepping non sarà l'unico anzi durante quest'anno recupera tutto quello che non ha droppato l'anno scorso e qualche mese più tardi ad aprile esce anche 38 baby 2 il sequel di quello uscito nel 2016 non mancano chiaramente i singoli o i featuring giusto per citarne uno esce need it traccia di migos che vede proprio la collaborazione di young boy il 20 agosto annuncia l'uscita di un nuovo album ufficiale top che poi uscirà definitivamente l'11 settembre 2020 anche per lui primo posto in classifica billboard vendendo 126.000 copie e questo è solo il primo di tanti record che stabilisce il rap il più interessante in un solo anno ha droppato tre album che hanno conquistato la posizione numero 1 della classifica billboard 200 in ordine cronologico whole young boy 2 38 baby 2 è top ma non finisce qui perché pensate che dall'11 settembre fino alla fine dell'anno escono altri tre mixtape never broke again volume 1 ain't too long 2 una compilation a cui partecipano anche i rapper della sua etichetta quendo rondo e no cap until higher turn un tape inizialmente droppato solo su youtube ma che poi dopo qualche giorno è stato caricato anche sui servizi di streaming è nobody safe joint tape con reach the kid ma adesso concentriamoci anche sulle vicende legali che caratterizzano questo anno e soprattutto anche poi vedremo il 2021 del rapper il 28 settembre 2020 viene arrestato insieme a 16 persone pensate bene nella sua città natale con varie accuse a suo carico tra cui produzione e distribuzione di droga e possesso di armi da fuoco rubate ora non ricordo se qualche giorno dopo o passò qualche settimana ma fatto sta che ancora una volta il rapper uscì pagando una cauzione che non si limitò a pagare solo a se stesso ma anche a tutte e 16 le persone coinvolte insomma un gesto veramente trap purtroppo per lui non finisce qui il 22 marzo 2021 viene arrestato da agenti federali che avevano un mandato di cattura nei confronti del rapper a quanto pare tutto era incominciato come un inseguimento tra macchine ad una certa young boy comunque è sceso dalla macchina per proseguire la sua fuga a piedi e i poliziotti per rintracciarlo hanno anche dovuto usare i cani della polizia e alla fine è stato trovato e arrestato al momento dell'arresto aveva due pistole con sé essenzialmente le accuse sono le stesse del 28 settembre ovvero produzione e distribuzione di droga e possesso di armi da fuoco rubate l'arresto di settembre ha fatto partire un'indagine da parte degli agenti federali e questa è stata la sua sfortuna essere preso praticamente dall'FBI che poi hanno portato avanti col tempo e a quanto pare ha dato anche i suoi frutti attualmente è in carcere in attesa di un processo e si pensa che possa prendere dai 5 ai 10 anni come avete avuto modo di vedere ha sempre avuto problemi legali sin da quando ero piccolo quindi il suo problema è che tutti questi piccoli reati man mano sono sempre andati ingrandendosi e soprattutto sono sempre moltiplicati quindi adesso che è stato preso dai federali deve scontare una pena che è la somma di tutti questi reati commessi ed è qui che la sua situazione si fa abbastanza difficoltosa vabbè noi comunque nel frattempo aspettiamo il processo che tra l'altro se non sbaglio non è stato neanche ancora fissato e vedremo come andrà certo che perdere per 10 anni se non di più un artista come lui sarebbe davvero un peccato voi cosa ne pensate lo conoscevate vi piace qual è la vostra canzone preferita sua o se avete un progetto fatemelo sapere qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto mi invito ovviamente a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video come questi e tutto il resto che carico qui sopra condividete questo video con quanta più gente volete e potete e noi ci vediamo ad un prossimo slat